Ultima gara dell'assaggione al Colangelo e poi Pontevomano in vacanza, dover passare dai play-out invece la salvezza del penne al quale basta un solo punto per disputare il primo turno degli spareggi tra le muramiche e con il vantaggio dei due risultati su tre contro il Casalbordino, assenza pesante per i gialloneri che devono rinunciare al vice capocannoniere dell'eccellenza Antonio Polisena, squalificato dopo l'espulsione contro il Montesilvano. Il penne prova a fare la gara ma la prima occasione è per i gialloneri, Leone si raccoglie un cross dalla sinistra e con il piattone sfiora il palo. Al ventisesimo il Pontevomano si porta in vantaggio, ci prova Falasca dal limite e ottiene il corner che Angelo Cernas batte al centro per la corrente Ragozzo che da due passi non sbaglia. Deve reagire il Pontevomano che si rende pericoloso senza successo con Leone da centro area. Al trentasettesimo Cellucci sfonda dalla sinistra e da posizione defilatissima conclude e trova la respinta con i piedi di Spinozzi. Al rimorchio arriva Antonacci, corpo all'indietro e tiro da dimenticare. Al quarantesimo Rossi pennella alla perfezione per Basualdo che di testa lambisce il palo. Stessa sorte dall'altra parte per il fendente dal limite di Falasca. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa che si apre con la rete del pari firmata Cellucci. Leone confeziona dalla sinistra, Spinozzi respinge sui piedi del numero 9 che in tapino non può sbagliare. Passano due minuti e Dercole stampa dal limite un siluro a giro dal limite sull'incrocio dei pali. Al sedicesimo viene annullata la rete e il vantaggio di Gardini che ha messo dentro sul servizio di Dorazio. Per il signor Abdul Zara dell'Aquila è offside. Nulla da segnalare se non tanto il possesso da una parte e dall'altra. Fino al triplice fischio. Una a uno tra penne e Pontevomano con i padroni di casa che dunque nel primo turno di play-out se la vedranno al Colangelo con il Casalbordino. Mister come possiamo giudicare il cambiato del Pontevomano visto che dopo sette giornate eravate a zero punti. Quello che ho detto nelle altre interviste è che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, forse irripetibile. Colgo l'occasione per ringraziare i miei giocatori uno ad uno. Dovrei fare una statua ad ognuno di loro, da chi ha giocato più a chi ha giocato di meno perché hanno fatto qualcosa di irripetibile. Oltre alla salvezza credo che ci siamo tolti tantissime soddisfazioni. Abbiamo battuto l'Aquila, abbiamo battuto l'Avezzano, abbiamo pareggiato con Giulianova. Quindi credo che a questi ragazzi vada solo detto un bravo e un grazie. Ma guarda, io non dirò mai alla mia squadra di perdere. Ogni partita si gioca per vincere. È normale che ho dato spazio a chi ha giocato di meno perché lo meritava. Perché credo che il valore aggiunto di una squadra sia i giocatori che giocano di meno, che si fanno trovare pronti nel momento che vengono chiamati in causa. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo perso e quindi ripeto, valuto l'annata. L'annata è stata dalla settima giornata in poi straordinaria. Sì, abbiamo lottato, abbiamo fatto la partita e abbiamo riscattato un punto importante per rimanere nel posto dove siamo, così dal prossimo incontro poterlo fare a casa. No, contenti non penso. Che potevamo fare di più? Mettere, stare meglio con la testa, giocare un po' di più, sforzare le partite, non darle per perse dal primo gol che ci facciamo. Secondo me, all'inizio del ritorno, il girone di ritorno, abbiamo fatto benissimo. Ci ha un po' colpito il fatto delle settimane del Covid, tutti quelli che sono stati fermi. Però, secondo me, abbiamo fatto una cosa incredibile dal girone di ritorno. Non c'è avuto grande opportunità per dimostrare, però alla fine sono scelte del mister. Se il mister pensava che era bene così, secondo me va bene. Sono stato a fianco a Cristian D'Amico, un grande portiere, che grazie a lui adesso sono migliorato tantissimo. Quindi, secondo me, è una stagione persa. Una stagione dove ho imparato tante cose e posso continuare a imparare.